Amici di Youtube, ben trovati a Marco Liguori, in questo video parliamo di un grave lutto in primis per Romano Prodi, ci lascia un grande architetto e un grande musicista e prima di saperne di più, prima di scoprire di chi si tratta, vi ricordo che, qualora questo video dovesse superare i 700 mi piace, ne pubblicherò immediatamente uno nuovo, non dimenticate di attivare la campanella per ricevere le ultime notifiche. Un grave lutto ha colpito l'ex presidente del Consiglio, Romano Prodi, un grave lutto anche per il mondo della musica, ci lascia un grande appassionato di violoncello, stiamo parlando del 88enne fratello di Romano Prodi, Quintilio Prodi, architetto di fama nazionale, come detto, grande esperto di violoncello, Quintilio Prodi, aveva 88 anni, e il primo canale di Marco Liguori, con grande dispiacere, fa le più sentite condoglianze, Prodi e famiglia per la perdita di Quintilio Prodi, 88 anni, architetto e grande appassionato di violoncello, amici di Youtube, io vi ringrazio per l'attenzione, lasciate il vostro commento, iscrivetevi al canale, condividete questo video, seguitemi sulla pagina Facebook Marco Liguori News, seguitemi anche sul secondo canale di Marco Liguori, canale che tratta le notizie di Cronaca. Ciao a tutti. Ciao a tutti.